we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi tante novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e le ultime 24 ore delle news si parla come sempre di season 3 ma oggi si parla in maniera molto più dettagliata perché dal nulla ieri pomeriggio è arrivata una persona che sui forum di reddit ha creato l'inferno pubblicando delle notizie assurde ma prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video news e ora andiamo direttamente nella prima notizia di oggi si parla dei teaser della season 3 forse ci siamo un po dimenticati di deadpool in questa stagione perché è arrivato quasi senza senso in quanto non ha avuto un filo logico se non per il discorso dello yacht che è stato appunto preso prepotentemente da lui sfrattando miascolo ma se noi torniamo nella parte di deadpool dedicata nella lobby ricordiamoci che ci sono tre cartelle sul suo desktop che sono ancora anonime e qualcuno incomincia a pensare che siano proprio delle cartelle dedicate ai teaser della stagione in arrivo potrebbe essere assolutamente così non è da scartare come idea staremo a vedere probabilmente nella pace 12.60 che arriverà in questa settimana se ci sarà qualche novità e qualche aggiornamento appunto sui teaser e andando avanti con il prossimo argomento di oggi parliamo invece di ciò che sappiamo forse non lo abbiamo mai fatto forse non lo avete mai visto ma abbiamo unito le tre immagini che sono state scoperte dalla patch 12.50 questi sono i tre volantini presenti sui muri dell'edificio principale di lago languido e come vedete uniti formano un quadretto davvero bellissimo partendo dal primo sappiamo innanzitutto che ci sarà l'acqua nella stagione 3 ed è chiaro come il sole sarà anche ad un livello notevole in alcune parti della mappa lo sapete si sta già alzando il livello tipo a moli molesti parte numero uno ragazzi banana che nuota con sotto lo squalo quindi probabilmente ci saranno delle sezioni pericolose dove potremmo addirittura morire senza che nessuno ci killi parte numero due ragazzi la casa fluttuante la parte centrale il fulcro di queste tre immagini che dovrebbe significare che l'edificio a parco pacifico che è quello raffigurato in quell'immagine potrebbe essere l'unico che si salva mentre tutto il parco e parti della mappa verranno sommersi e per terminare ragazzi il nostro miascolo con i bermuda potrebbe semplicemente essere un omaggio appunto alla season in generale eccolo lì bello felice bello allegro che con i braccioli sopravvive e va avanti potrebbe anche voler significare che gli agenti rimarranno anche nella stagione 3 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ragazzi questa faccia un pochettino strana è una faccia che in realtà è molto importante in un tweet da parte di una persona viene sottolineato come george no george joff kigley che chi è gif kigley è praticamente uno dei più importanti conduttori e presentatori dell'ambito dei videogame a livello mondiale parliamo di veramente una persona seguita da milioni di persone che ha praticamente confermato che ci sarà al 100% l'evento in questa season 2 la sua breve clip che vi voglio mostrare molto rapidamente eccola qua ragazzi ce lo conferma se però magari diamo un pochettino di audio e infatti ragazzi lui dice dobbiamo aspettarci davvero un grandissimo evento per quanto riguarda fortnite anche perché lui è molto vicino ad epic games e quindi non dobbiamo temere nulla sarà davvero qualcosa di eccezionale e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché ragazzi invece quest'altro signore ha pubblicato una cosa davvero interessante non mi ricordo il nome se devo essere sincero in questo momento ma è uno dello staff ufficiale di epic games perché questa immagine è così importante e sta facendo così tanto il giro dei forum perché mentre lui pubblica sulla sua pagina qualcosa riguardante il grande lavoro fatto nonostante il periodo di quarantena su fortnite porca caccia migliacca mi ci devo sempre infilar dentro l'easter egg perché sono contenti quelli di quelli di fortnite qua sotto ragazzi c'è una cosa che bene o male tutti sappiamo che cos'è allora nella realtà come vedete è una è un altro nella realtà come vedete ragazzi è una di quelle lampade che attirano la l'energia elettrica mettendoci le mani per quanto riguarda invece fortnite ci spostiamo su una clip che avevo già fatto vedere ma che vi ripropongo è da intendere come la macchina del doomsday event doomsday vi ricordo il giorno del giudizio stiamo vedendo in questo momento come sarà la fase finale quello che troveremo in lobby gli ultimi giorni della season un sacco di cavi in più corrente elettrica che passa e addirittura scintille che fuoriescono dei cavi questo potrebbe voler significare anche che potrebbe succedere qualche cosa che non faccia andare a buon fine il doomsday project quello di mida come vedete ecco in queste immagini la palla di vetro che vi stavo menzionando poco fa questa è proprio per chi ancora non lo sapesse la doomsday weapon quindi la macchina del giudizio finale che appunto viene alimentata e che secondo le teorie dovrebbe attivarsi quindi ragazzi staremo a vedere come sempre ciò che ci aspetta e andiamo avanti a parlare di un altro argomento molto interessante perché guardate che roba incredibile come vi avevo già anticipato nel pomeriggio di ieri su reddit appare quest'utente che comincia a sparare a zero delle notizie che sembrano essere incredibili perché sono tutte dedicate alla stagione che sta per arrivare la cosa che è veramente incredibile che nessuno conosce questa persona ma dice delle cose talmente dettagliate che non si possono ignorare ne leggiamo alcune che dice ci sarà sicuramente un nuovo veicolo un piccolo sottomarino che potrà portare fino a due giocatori ed avrà ovviamente l'abilità del boost ma poi dice anche che la parte sud ovest della mappa sarà totalmente sommersa dall'acqua ci dice anche che acqua man non sarà una skin si vedono molti video dove c'è acqua man ma sono solo dei concept ci dice che lazy lake sarà molto più simile a pinnacoli pendenti quindi lago languido potrebbe subire delle modifiche ci dice anche che tutte le armi mitiche presenti in questo momento in gioco verranno eliminate oppure ci dice anche che ci sarà una skin di una sirena nel battle pass lei avrà un'abilità speciale dove le gambe si trasformeranno ovviamente in coda di pesce e potrà nuotare sott'acqua anche lui stesso lui non conferma ne smedici perché in realtà si para quando dice queste cose e sostiene che gli siano state dette direttamente da qualcuno di epic games io ve le lascio leggere ve le lascio tradurre perché sono veramente tante ed è molto lungo ma è qualcosa di incredibile e prima di salutarci prima avete sentito una voce e potrebbe essere quella di una nuova collaborazione di kai e si o chi e sai è per forni chi è chi e sai è un rapper diventato famoso con youtube ha caricato i suoi video da un bel po e lui stesso dice questo è il suo video mai fa pisciare dalle risate questo uomo eccolo qua ora io fordai mi fa morire mi fa morire non si può non si può non avere una persona del genere potrebbe essere la nuova icona dell'icon series di fortnite probabilmente un nuovo concerto che verrà fatto nel party royale insomma ragazzi anche oggi tante notizie ve le ho dette vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi miei canali ea me mi trovate proprio adesso il live su twitch ciao